La formazione, soprattutto in questo momento storico tra crisi e transizione tecnologica, è sempre più indispensabile al fine di ottenere un posto di lavoro. Meglio se mirata, questo da facilitare l'avvicinamento degli utenti ad un mercato in crescita nella nostra regione. Infatti, l'ultimo bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Union Camere e Ampal ed elaborato dal Centro Studi di Confartigerato Imprese Chieti L'Aquila, ha fatto emergere come delle 12.670 assunzioni previste nel mese di luglio, il 37,6% sarà di difficile reperimento. Il dato sale a 29.560, considerando il trimestre luglio-settembre. Il 72,9% delle entrate riguarderà i servizi e il 27,1% l'industria. Per quanto riguarda i gruppi professionali in Abruzzo, il 46,6% delle entrate riguarderà impiegati, professioni commerciali e nei servizi, il 26,4% operai specializzati, conduttori di impianti e macchine, il 15,5% professioni non qualificate e l'11,6% i dirigenti, le professioni specializzate e i tecnici. Le maggiori difficoltà di reperimento riguardano, in Abruzzo come in Italia, gli operai specializzati, in particolare la categoria fondatori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpenteria e professioni simili, quella degli artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni e quella degli artigiani e operai specializzati nell'installazione e manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche. Di difficile reperimento anche gli addetti in professioni tecniche, tra cui in particolare i tecnici della gestione nei processi produttivi di beni e servizi e i tecnici in campo ingegneristico. A livello territoriale sono previste 3.350 entrate nelle imprese della provincia di Chieti, 8.040 considerato il trimestre, 2.610 nella provincia dell'Aquila, 5.970 nel trimestre, 3.860 nel Terramano, 8.490 nel trimestre e poi Pescara con 2.850 entrate, 7.060 nel trimestre. Grazie a tutti! Grazie a tutti.